Due individui di origini magrebbine sono rimasti feriti dopo essersi gettati da un ponte situato a pochi passi dallo svincolo autostradale di Contursi Terme. I due stavano camminando nei pressi dello svincolo in questione quando hanno visto un'auto della polizia in zona per controlli di routine avvicinarsi a loro. Il timore di essere fermati dagli agenti li ha portati a scavalcare il guardrail e a tentare un improbabile salto nel vuoto di 10 metri che li ha fatti finire su un terreno sottostante. Entrambi sono stati soccorsi e ricoverati d'urgenza per via delle ferite riportate. Sul fatto indaga la polizia di Stato.